Direi proprio di no. Non so cosa tu abbia fatto, ma sono sicuro che non sia quello. Ricordi che c'è sempre il passo laterale, se no non serve un cazzo. Vai bene in diagonale, Fresia? Travolgi pure Alberto, che tanto ci sta sul cazzo. No, no, Pirretti, è l'altra gamba. A sinistra. Fai l'incrocio più lungo, Chiarone. Precisamente. Dario, le mani però già in posizione, non le mette la luce. Però, Fresia, devi cercare di farlo più tagliato in diagonale. Approfittane quando Alberto ti sposta così tanto, se no è inutile. Devi riuscire a vedere quanto puoi andare in diagonale con questo stacco, per valutare anche cosa che... Però se ti volti è finita. Marco, devi spingere con le gambe, non oscillare il corpo. Devi spingere sulle gambe. Devi spingere sulle gambe. Spingo, 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 spingo. Non uscivo. Non è. Non sono niente le luci. Accendene pure tutte, tutte in fila. Le braccia, Dario. Quello va molto bello, Renzi, ma non finire con il piede destro dietro. Finino largo. Se non finire indietro con il peso del corpo era perfetto, Fresia. C'è il fosso incredibile. Devi aiutarti con i sassi di sabbia. Devi uscire al derby. Mille volte meglio. Ora, fai l'incrocio lungo, perché devi prendere la diagonale. Quindi spingi per andare lungo sull'incrocio. Dovete anche l'arriano di sette e mezzo con il nom. Grazie. 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 Grazie.